Ma andiamo al motivo per cui le abbiamo chiesto questa intervista. Allora, cosa ricordiamo con la giornata della memoria? Ricordiamo una macchina di sterminio che ha provocato milioni di morti, che ha cercato di cancellare il popolo, gli ebrei dall'Europa. E ricordiamo però nel contempo anche tutti coloro che hanno aiutato affinché questo non avvenisse. È un giorno importante perché il tempo ci allontana da quei fatti. Naturalmente tanti sopravvissuti non ci sono più e dobbiamo sentire la coscienza e la responsabilità di trasmettere il messaggio della memoria. Che è soprattutto quella di abbattere il muro dell'indifferenza. Perché è capitato, ma non è detto che non capiterà più. Ecco, Presidente, l'Europa Unita nasce anche per superare questo orrore. Esiste ormai una realtà condivisa? O lei che, diciamo, dal suo punto d'osservazione può vedere anche i movimenti culturali, il pensiero degli europei, esiste ancora la possibilità di contestare la realtà della Shoah? Guardi, ho incontrato di recente il Collegio dei Rabbini d'Europa. Sono venuti a trovarmi e hanno espresso grande preoccupazione perché l'antisemitismo è ancora un virus molto potente in Europa. Tante famiglie si sentono insicure. I gesti di tanti movimenti politici sono certamente molto coerenti con il nazismo, il fascismo. I pericoli ci sono. Noi abbiamo bisogno di società consapevoli. Ecco perché dobbiamo non solo celebrare la giornata della memoria ma investire sulla memoria perché non ci sia distrazione e perché i pericoli effettivamente i nostri cittadini siano in grado di superarli. Credo che i richiami della senatrice Liliana Segre al concetto di indifferenza con cui il nazismo e il fascismo hanno potuto operare siano davvero importanti. È l'indifferenza che dobbiamo sconfiggere, è quel muro che dobbiamo abbattere.